Ma io lo so che molti di voi si staranno chiedendo Nintendo ma che senso ha aver creato l'amiibo di Link di Skyward Sword che non può essere utilizzato su Skyward Sword? Ma Poracci la risposta è molto semplice, praticamente Poracci bentornati o benvenuti sul TG Poro l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi durante il weekend Neh, oggi parleremo delle critiche dei fan nei confronti di Skyward Sword HD dei dati di vendita di Nintendo Switch rispetto alla concorrenza ma non solo, preparatevi perché ci sono tantissime notizie di cui discutere Quindi prima di iniziare mi raccomando vi invito a supportare il canale con un piccolissimo gesto Dai su che vi costa? Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e mi raccomando seguitemi anche su tutti gli altri social, in particolare Instagram Poi se proprio volete dimostrarmi un affetto smisurato potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi dove tra l'altro troverete i miei mini in HD ma insomma, roba per pochi Partiamo con qualche notizia da trattare al volo Sony e Naughty Dog hanno deciso di sorprendere gli utenti PS5 con una patch improvvisa Si parlava da molto tempo infatti di un possibile aggiornamento che avrebbe trasformato The Last of Us Parte 2 in un'esperienza next gen e la patch è arrivata di soppiatto prendendo tutti i controtempo Grazie a quest'update gratuito gli utenti potranno scegliere e dalle opzioni se abilitare o meno i 60 fps incrementando notevolmente la fluidità di gioco oltre ovviamente a tutti i benefit che derivano dall'avviare il gioco uscito per PS4 lo scorso anno in modalità retrocompatibilità su PS5 La cosa più interessante è che per Naughty Dog questa patch è solo l'inizio e lo studio sta iniziando a prendere confidenza con il nuovo hardware Staremo a vedere cosa ci sapranno regalare gli autori di Uncharted anche su PS5 Passando alla Switch abbiamo un'altra grandissima aggiunta alla sua line-up Nino Kuni 2, seguito del JRPG sviluppato da Level 5 in collaborazione con lo studio Ghibli arriverà finalmente anche su console ibrida Si erano perse le speranze per questo porting uscito originariamente nel 2018 eppure Nino Kuni 2 avrà la sua versione per Nintendo Switch Tra l'altro questa Prince Edition comprenderà il gioco base più tutti i DLC usciti nel corso degli anni senza contare che dovrebbe avere anche una release fisica prevista per il 17 settembre di quest'anno Lo prenderete? E porca miseria se sono emozionato ma Deep Silver ha annunciato il ritorno di una serie storica quella di TimeSplitters Poracci molti di voi non si ricorderanno di questo FPS ma vi garantisco che in particolare il secondo episodio è stato forse uno dei miei giochi preferiti in assoluto di sempre l'apice del multiplayer in split screen Non a caso il team dietro alla trilogia originale, quello di Free Radical Design raccoglieva tantissimi talenti che avevano militato nella rare dei tempi d'oro E oggi dopo anni di rumor, tentativi di reboot, remake Deep Silver ha finalmente annunciato che TimeSplitters ritornerà e saranno proprio i ragazzi di Free Radical con un team messo su per l'occasione ad occuparsi del progetto Siamo ancora lontani dal vedere qualcosa ma io non sto proprio nella pelle se non avete mai giocato a un TimeSplitters beh, non sapete cosa vi siete persi Inoltre Nintendo ci ricorda che questo giugno arriverà la prima ondata del season pass di Aerial Warriors l'era della calamità Non si sa ancora la data precisa ma nel trailer viene fatto un breve accenno a tutti i contenuti aggiuntivi che si otterranno a giugno e a novembre tra cui spiccano sicuramente il roster espanso e le nuove sfide Il 28 maggio, come pre-order bonus si potranno scaricare anche un'armatura e un'arma aggiuntive per Link e della prima è stato condiviso uno screenshot sul profilo social del gioco Darete una chance a questo season pass? Oppure per voi Age of Calamity ha già detto tutto quello che aveva da dire? E passiamo alle notizie scottanti del weekend partendo da tutto il casino che si è scatenato intorno a Skyward Sword HD Qui poracci voglio sapere assolutamente la vostra perché effettivamente la situazione è molto particolare e va analizzata con cura magari gli dedicheremo un video intero ma intanto ecco da cosa è generato il malcontento della community Ne abbiamo già discusso ma la decisione di presentare un porting da Wii in HD a prezzo pieno come se si trattasse di un gioco nuovo è già di per sé una scelta controversa insomma sono pratiche che abbiamo accettato un po' a malincuore con i giochi Wii U molto più recenti ma con una remaster di un titolo i dieci anni fa la questione inizia a diventare già più spinosa sì è vero è stato ripensato per intero il sistema di controllo per adattarlo sia ai Joy-Con che alla possibilità di giocare in portatile ma lo stesso lavoro è stato svolto anche con Galaxy che è stato venduto a prezzo pieno sì ma all'interno di una collection nell'anno del 35esimo anniversario della serie per ora ci ritroviamo solo con un porting all'apparenza un po' pigro quando poi il gioco originale veniva venduto in una bellissima edizione celebrativa con tanto di controller dorato e colonna sonora qui invece i Joy-Con andranno comprati a parte così proprio come l'Amiibo venduto tra l'altro a prezzo maggiorato anche qui il confronto è quasi automatico ben diverso trattamento avevano ricevuto Wind Waker e Twilight Princess su Wii U dove il secondo veniva venduto non a prezzo pieno con tanto di Amiibo e colonna sonora inclusi nel bundle quindi si parla di 60 euro di gioco 80 di Joy-Con e 25 di Amiibo per avere il pacchetto completo eh sì perché mentre l'acquisto dei Joy-Con è un vizio puramente collezionistico con l'Amiibo la storia è differente infatti la funzione di viaggio rapido associata alla statuetta sarà ottenibile solo con questa e non ci sarà modo di usufruirne tramite il gioco base inoltre nonostante una nutrita schiera di Amiibo a tema Zelda sia già uscito nel corso degli anni quello di Zelda e Solkanubi sarà l'unica da essere utilizzabile con Skyward Sword HD insomma per farla breve Nintendo ha implementato una funzione interessante in modo approssimativo ed ha bloccato una feature che migliora nettamente l'esperienza di gioco dietro a un pagamento di 25 euro ecco per ora io non mi esprimo ma voglio sapere la vostra cosa ne pensate di questa scelta da parte di Nintendo? soprattutto ritenete giusto il prezzo di gioco Joy-Con e Amiibo soprattutto guardando la storia recente e passata della grande N? vi aspetto nei commenti comunque sappiamo tutti che indignazione o meno Nintendo continuerà a vendere tantissimo e la traiettoria positiva di Switch sembra non fermarsi mai i dati di vendita del primo trimestre del 2021 parlano chiaro per ora la console ibrida non ha rivali vi ricordate no? quando tempo fa si pensava che Nintendo sarebbe stata messa in crisi dall'avvento della next gen e si sarebbe ritrovata schiacciata dalla competizione dei nuovi hardware si credeva che Nintendo sarebbe corsa ai ripari con una nuova console eppure gli altri dirigenti continuavano a parlare di ciclo vitale esteso ed altri 4 anni di presenza sul mercato ebbene per ora grazie soprattutto alla crisi degli impianti di produzione durante la pandemia i numeri sembrano dare ragione alla grande N secondo lo studio portato avanti da Ampere Analysis Switch non avrebbe avuto rivali neanche nei primi 3 mesi del 2021 le nuove piattaforme Xbox hanno venduto 1,31 milioni di unità in questa finestra di tempo mentre la PS5 più del doppio, ben 2,83 milioni Switch però ha venduto la bellezza di 5,81 milioni di console più del totale di tutta la next gen messa insieme certo si tratta di dati falsati dal continuo andare in sold out di PS5 e Xbox ma sono comunque mesi preziosi per la casa di Kyoto che continua a catturare nuova utenza e a imporsi come il leader del mercato con una console che molti davano già per obsoleta chissà se la crisi produttiva dettata dalla scarsità di componenti elettronici prima o poi colpirà anche Switch visto che è stato lo stesso presidente Furukawa a dichiarare che nel corso dei prossimi mesi potrebbe essere difficile riuscire a soddisfare l'elevata richiesta di console Poracci, secondo voi se Sony riuscisse a produrre un numero elevato di console Switch venderebbe ancora più di PS5? e questo successo di Switch allontana sempre di più la possibilità di una revisione pro? un sacco di domande insomma per fortuna abbiamo tutto il weekend per rifletterci sopra quindi vi aspetto nei commenti e vi ringrazio per essere stati di nuovo qui con me fino alla fine da lunedì si riparte a pieno regime quindi riposatevi che vi voglio belli carichi noi ci vediamo al prossimo video io sono il Poro Skyward Michele HD ciao praticamente